Bella faccia, non so se ti rendi conto, ma qua ci sono più di 100 porte Questa è la stanza di un hotel dell'orrore No, 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 bella faccia, è un incubo Ragazzi, questa è la seconda parte di un video uscito qualche giorno fa In cui dobbiamo trovare dei pulsanti nascosti Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e godetevi il video Ciao Allora, aspetta, 3, 2, 1 Vai Ok Sì Ce l'ho fatta, si è aperta una porta È pieno di pressure plate e di tesori, bella faccia Oh mio Dio, sono in paradiso E io? Sono in paradiso Eh, quindi me li prendo tutti io, mi dispiace No, no Sì, mi dispiace per te Sono tutti miei questi tesori Quendal Però, aspetta un attimo Ti devi liberare Eh, qua mi sa che devi liberare tu me Come io o te E io sono bloccato Stai scherzando Ma qua non c'è nulla E quindi non si doveva andare lì? Io sono chiuso la porta qua Ah, trovato Ah, ma ora sei nabbo Allora, picnic Facciamo un picnic Qui lo trovo subito È una bella giornata Basta fare un picnic Qua forse No Devi fare il parkour, bella faccia Devi fare il parkour No, no, io non faccio niente Ok, io sono letteralmente alla fine della mappa Io non faccio niente Perché sei scarso, ecco perché Che cosa? Oh, qua c'è un buco Uno scarso direbbe questo? Oh, l'ho trovato Trovato? Sì Chi è il migliore? I'm a Barbie girl In a Barbie Ok, siamo diventate delle ragazze Cerca il pulsante Entra qua dentro Ok, restaci ora Vediamo Apri tutte le botole che trovi Mi raccomando Oh, oh, oh Cosa? No, di già l'hai trovato? Non riesco a impazzare Oh, oh Chi ha trovato Barbie girl? No, no, no Meglio che non vieni Non l'hai trovato? No Perché c'è una botola Cosa c'è? Un gabinetto? Un gabinetto, sì Si deve aprire una botola Devi aprirmi una botola Devi aprirmi una botola Dobbiamo cercare un pulsante Guarda, là c'è una che vuol scendere Dice Però è troppo alto Ok, un altro parkour Aspetta No Da lì, da questo Da questo, guarda Forse così Qua, qua Qua Ok Hai ragione, forse Vai Così Poi No, salta Quando te lo dico io 3, 2, 1 Salta Ok Ok, bravo Sei un genio Ok, adesso Adesso così Ora qua Ah E poi qua Brava Barbie Girl Ok, cosa Ok, aspetta Adesso Devo continuare No, no, no No Ma non è che è dentro uno di questi Di questi quadri? Dai, salta Salta Aspetta Ok Oh, c'è uno shulker Leva che può essere piazzata sul prismarino Dammi, dammi, dammi Dammi, dammi Veni dal prismarino Dammi, dammi, dammi Prismarino nero Prismarino scuro E qua, qua, qua Dove? Qua sotto E qua sotto No, prismarino Prismarino Cosa è prismarino? Come cos'è il prismarino? Dai, quello verde È qua È qua, è qua È qua Ah, è qua Ok, ok, aspetta Quindi io apro questo Piazzo questo Apro la botola Che dove mi porta? Oh mio Dio Un bella faccia Mi ho portato in una stanza segreta Oh, voglio vedere Eh, no Non te lo consiglio molto C'è una leva Ok, ho acceso le luci E adesso che ho acceso le luci Oh, ci deve essere un pulsante qua Questa è una stanza di tortura Di Barbie Girl Sì, ma infatti Ma che razza di Barbie vive qua, scusa Ok, cosa abbiamo attivato però? No, dobbiamo aver attivato qualcosa sicuramente Io torno indietro Oh mamma Io torno indietro Sicuramente c'è qualcosa che abbiamo sbloccato Il bagno forse? No Aspetta L'ho trovato Non ci posso credere Chi è il migliore? Dai dillo, chi è il migliore? Io, io, io Chi è il migliore? Ok, ci troviamo in un hotel e labirinto Apri tutte le porte Aveva prenotato una stanza Bella faccia Non so se ti rendi conto Ma poi ci sono più di cento porte Questa è la stanza di un hotel dell'orrore No, 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 no No, 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 no Bella faccia È un incubo Bello Che cos'è questo? Ma è pieno di piani Quanti piani sono? È un incubo Ma chi è il pazzo che ha creato questo? No, 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 no È impossibile Ma questo è un incubo comunque È impossibile Vediamo Di qua? È dove si va qua? Oh? Sì, tanto qua si torna al primo piano sicuramente Sì Sei stato fregato È infatti Oh mio Dio Ma che cos'è questo labirinto? Sì, ho capito che non ci siamo mai stati Però Se le porte non portano da nessuna parte Cosa portano a fare? Eh, se è una porta Porta da quella porta No? Dobbiamo andare forse da quell'altra porta Eh, ma non ti porta nessuna porta Eh, però se prendiamo questa porta Forse si riporta con la porta Dici che ci porta da quella porta? Sì, potrebbe riportarci da quella porta Oh! Guarda Oh! Cosa? Te lo dicevo che questa porta Guarda Vieni Aspetta Ti dicevo che questa porta Portava quest'altra porta Ok Che adesso entriamo dentro questa porta Ma sei un genio Ma come hai fatto? Eh, basta fare porta a porta Allora, ci troviamo nel nuovo Nether Perfetto, perfetto Un nuovo Nether Eh Io adesso sto qui e non faccio più niente Ah Ma ti sembra giusto, bella faccia? Eh, sì Dai, cerca il pulsante Dammi una mano Siamo bloccati entrambi qua dentro Mica sei da solo Ma io sto bene qua Ma come stai bene? Certo Guarda Ok, allora ti dico qualcosa che non ti farà stare più bene Che cosa? Dove sei? Qua, puoi far così, lo sapevi? Ora ti dico qualcosa che non ti farà stare bene Che cosa? Abbiamo finito le provviste di cibo Dobbiamo uscire subito da qua, bella faccia Dobbiamo uscire subito Trova il pulsante Ora vedrete che lo trovi in un secondo Trova, 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 trova Trova, trova il pulsante Trova il pulsante Trova il pulsante Trovato! Di già Eh? Dove? Ma cosa? Ma dov'era? Era finito il cibo Eh, visto ragazzi Appena, appena parli di cibo finito Me la faccio e lo trovo immediatamente Dai, questo è facile secondo me È un gatto Questa mappa è piccola Qua deve essere per forza dietro le nuvole O sotto uno di questi piccoli blocchi Non ci credo, di già Dov'è? Dov'è? Eh, boh, c'è qualcosa lì Ma sì, vabbè, ma è ovunque, guarda Sì, ho capito Bella faccia, è pieno di quei buchetti E quindi dobbiamo cercare il pulsante In uno di questi buchetti, secondo me Oh, oh L'hai trovato? Oh, oh No, non ho trovato Un coniglio La sotto Sta bleffando, infatti Forse qua? No Qui? No, non ci posso entrare Qui neanche Non farti distrarre dal coniglio Il bianconiglio forse ci dà qualcosa Qua c'è una botola con un coniglio Eh, l'ho aperta io Vai dentro Ma poverino, l'hai incastrato Vai trovare il coniglio Ma hai incastrato il coniglio Vai trovare il coniglio Vieni qua, coniglietto Vieni, vieni Vai trovare il coniglio Quindi il coniglio non c'entra nulla L'ho trovato Waterfront Calming Area Ok, aspetta Quanti livelli ci sono Eh, sono tanti Bella faccia Questo qua però Sembra molto complicato C'è tanta acqua C'è tanta roba qua Ci sono dei cetrioli di mare Vuoi vedere che invece Questo sarà il più facile di tutti Secondo me Oh, Kandal, aiuto L'ho trovato No, no, aspetta Sono rimasto impigliato Cosa? Aiuto Ma dove sei? Aiuto Ma come sei rimasto impigliato? Bella faccia, ma che dici? Resterei là per sempre Mi dispiace Kandal Non ti posso aiutare, scusi Kandal Qua c'è un pulsante Guarda, non riesco a muovere Guarda Guarda Eh, ma bella faccia Cavoli tuoi Come sei entrato, scusa Grazie Sali sulle liane, bella faccia Sali sulle liane Sulla liana? Secondo me il pulsante Ha lo stesso colore di questi blocchi Ed è nascosto qua Secondo me tu sei il pulsante Aspetta, qua si può entrare Oh Passaggio segreto Bella faccia No, però devo Eccolo, eccolo, eccolo L'ho trovato Buon Natale Buon Natale a tutti Buon Natale Aiuto Eh, c'è un problema Siamo dentro un albero di Natale Bella faccia Io vado giù Cavolo, siamo dentro un albero di Natale Siamo dentro No, non andare giù Ciao Dai, esplora prima sopra E poi scendiamo giù pian piano Sì, sì, io vado giù Ok, beh, buona fortuna allora Trovalo Aia C'è Babbo Natale qua, Ken Ora ci penso io Bella faccia, sono finite le provviste C'è Babbo Natale Che cosa? Sono finite le provviste No No Sì, sì, niente più cibo No Non c'è più cibo Eh, non hai una chiave Tira la leva L'hai tirata la leva? Sì E cosa ha fatto? Ah, ma ti uccide Torni su Ah, perché quello là Se non resti bloccato Quindi dobbiamo trovare una chiave Da mettere lì Nel prismarino Trova la chiave Oh È uno shulker L'ho trovato Ho trovato la chiave Ok Stai qui ad aspettarmi Devo cercare di non morire Babbo Natale Sono stato buono Non è bello questo livello di Babbo Natale È finita Oh È l'ultimo Aspetta, abbiamo finito Secondo te Eh, sono tornate le provviste Hai visto? Aspetta Dice che è finita Però non mi fido Secondo me Questo qua è un altro livello Sì Abbiamo finito veramente la mappa È pieno di pulsanti qua È pieno di pulsanti Schiacciali tutti, bella faccia Non si sa mai Schiaccia tutto Ah, per me Ho finito Ma com'è finito? No, schiaccia i pulsanti Magari Arrivederci Ma magari è un troll Arrivederci a tutti Sì, dai Credo proprio che Oh, no Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ero sicuro che era un troll Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Sicuramente l'ho diviso in due parti Perché è durato tantissimo Bella faccia Ci sono altri pulsanti, Kendall No, basta No, 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 Kendall Ci sono altri pulsanti Da vostro Kendall E bella faccia è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao